La storica impresa del Cameron di approdare ai quarti si è consumata tutta nel secondo tempo supplementare. I 90 minuti avevano offerto soltanto due episodi significativi. Al ventesimo questo dubbio intervento su e strada e in aria ed ancora un incrocio dei palli centrato da Rincón con un calcio di punizioni appena deviato da un difensore. All'inizio del secondo tempo supplementare il match si è improvvisamente sbloccato. Il protagonista sempre lui, il 28enne Roger Mill, entrato in campo al 55esimo al posto di Infede. Al quarto il decisivo raddoppio. Stavolta il gol pesa tutto sulla coscienza di Higuita spintosi come al solito a metà campo. L'esperto Mill ruba palla e segna a porta vuoto il gol che vale i quarti di finale. Rabbiosa la reazione della Colombia che all'undicesimo dimezza il distacco con Rincón imbeccato da Valderrama. Ma è ormai troppo tardi per sperare ancora.